Grazie Presidente, brevemente per dire che l'assessore Giuse del Municipio 11 già sta sul pezzo di questo chiaramente problema che si è creato in realtà è un ponte di via Cristoforo Sabadino e sono state già avviate le indagini georadar di tutta la zona e anche iniziate le perizie strutturali al manufatto quindi i lavori sono già iniziati ed il Municipio è presente. Grazie, voteremo no chiaramente.